Mi raccomando fatemi sapere qui sotto nei commenti chi è stato secondo voi il migliore in campo, anzi di più, fatemi sapere i migliori in campo, uno per squadra al termine di questo meraviglioso Juventus Lazio Buonasera ragazzuoli, buonasera e bentornati sul mio canale YouTube, benvenuti in questa live in onore di Juventus Lazio 34esima giornata di Serie A, una stagione particolare 2019-2020, una sfida particolare e importante perché se pensiamo a quello che immaginavamo un mese, due mesi, tre mesi fa, beh questa doveva essere la partita a scudetto La partita clou che ci avrebbe fatto capire chi avrebbe poi vinto lo scudetto, anche perché prima del lockdown c'era un punto a dividere queste due squadre in classifica Oggi i punti sono molti di più, oggi forse la Lazio non è la rivale diretta per lo scudetto nei confronti della Juventus che sembra saldamente al comando Nonostante i problemi, nonostante le sconfitte, nonostante un po' tutto, i bianconeri sembrano essere favoriti stasera e soprattutto favoriti anche quest'anno per il titolo finale Fate un pronostico, fate un pronostico nei commenti, io vi dico la mia, ve la dico? Siamo sicuri? Beh, allora io vi dico che secondo me finisce 2-1 per la Juve Bene, 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 abbiamo aggiornato anche le formazioni perché effettivamente come bravissimi mi avete fatto notare voi nei commenti C'è stato l'infortunio nel riscaldamento per Pepita Higuain, quindi fuori lui, dentro la gioia, come ci si aspettava alla vigilia Si comincia con Juventus Lazio, attenzione a Immobile intanto, all'interno dell'area, all'indietro il suggerimento per Anderson Orizzontalmente chiama avanti Cataldi che cerca un'idea, riapreso Immobile, corsia di sinistra, lato corto dell'area, grandi bucata per Caicedo Che voleva il sinistro e ha salvato tutto Bonucci, invenzione, vicino Immobile per Felipe Caicedo Pallone geniale tra le linee per il taglio del 20, così come è stata provvidenziale la chiusura in calcio d'angolo da parte di Leonardo Bonucci E allora calcio di punizione Juve con il sinistro a cercare De Ligt, a trovare proprio il 4 che gira dentro e palo, palo clamoroso da parte di Alexandro Se non ho visto male è successo di tutto, perché la palla era corta per De Ligt ma è stata allontanata male dalla retroguardia bianco celeste E quindi il 4 ha rigiocato dentro per Alexandro che di testa ha colpito il legno alla sinistra di Stracoscia Ma attenzione alla Lazio che spaventa ancora con Immobile che prende il palo da casa sua Cesni battuto praticamente, Immobile arriva in zona tiro, carica il destro, palo e poi la palla resta in campo La Juve trema, palo della Juve prima con Alexandro, palo della Lazio adesso con Immobile che si iscrive alla partita Lui che è uno degli uomini più attesi e che sta lottando per il titolo di capocannoniere con un altro di questa serata che è Cristiano Ronaldo e che si è visto pochino Sono scaduti di reti recupero ma si gioca, calcio d'angolo battuto sul primo palo, deviazione a prolungare sul secondo Dove raccoglie Immobile ma c'è il duplice, fischio di Orsato è 0-0 Alla fine del primo tempo tra Juventus e Lazio è stato un primo tempo non noioso secondo me Perché comunque le due squadre hanno dato spettacolo, c'è stato un legno per a parte Ancora pochino, diciamo che ovviamente i gol avrebbero aiutato, un'analisi positiva I gol nel calcio fanno tutto, fanno la storia Però sapete che vi dico? Io adesso mi fermerei un pochino e poi ci spostiamo subito in live su Instagram Analizziamo il primo tempo insieme Perché se venite su Instagram, il link è questo qui che vedete in basso Trattino basso, Fede Marconi trattino basso Facciamo la live insieme, quindi vi faccio entrare e mi dite un po' la vostra Parlate soprattutto voi, perché io devo riposare la voce in vista del secondo tempo In questo istante via ai secondi 45 minuti Sperando che siano un po' più entusiasmanti dei primi E quindi che siano ricchi di gol quelli che sono mancati nel primo tempo Juve che sembra ripartita con la stessa intensità e voglia della fine del primo tempo rispetto alla prima fase Ora Di Bala in area, inventa come al solito, affonda, tiene in qualche modo il pallone calcio A Stracoscia la perde e poi Lazzari sulla linea Salva tutto e mette palla in out Enorme chance per Cristiano Ronaldo e per la Juve in generale Sul guizzo di Di Bala da mezzo metro Ronaldo che era già per terra, ha provato a dar potenza al pallone, non l'ha trovata Ora Rabiot, grande giocata in area Poi sponda col pallone perso Di Bala che cicca Poi arriva Orchio Ronaldo col sinistro, respinto, fallo di mano, punizione per la Juve E' un'altra partita in questo secondo tempo Anche se credo ci sia un check in corso per Orsato Per capire se il tocco di Bastos fosse dentro o fuori dall'area di rigore Però è calcio di rigore secondo me Sto vedendo un replay che onestamente mi chiarisce le idee Vediamo che decide Orsato Varra, calcio di rigore Calcio di rigore per la Juve Ronaldo contro Stracoscia Al minuto 6 del secondo tempo Pronto a fischiare Orsato Arriva il fischio, Ronaldo rincorsa in destro All'angolino con Stracoscia che intuisce ma non ci arriva Juventus 1 Lazio 0 la firma E' sempre quella del 7 che porta avanti i bianconeri E segna un gol pesantissimo Non soltanto per il campionato Perché sarebbe un gol che porterebbe a più 8 la Juventus sull'Inter E quindi chiuderebbe praticamente il discorso scudetto Ma è un gol pesantissimo anche a livello personale Perché è il 29esimo in campionato E questo significa soltanto una cosa Agganciato Ciro Immobile Gol sul rigore della Juve Che novità Manfred Luca Il rigore c'era Punto Cioè basta Per favore ragazzi Ve lo dico da romanista Non rompete i coglioni Occhio al contropiede Perché Di Balla è in posizione regolare C'è anche Ronaldo dentro Di Balla può servirlo Ronaldo Per il 2 a 0 Della Juve Per il trentesimo Gol in campionato Agganciato e superato Ciro Immobile Nel giro di pochissimi minuti nel secondo tempo Adesso rivedremo Perché ero concentrato sui commenti E chiaramente Mi sono lasciato anche andare a un termine colorito Ma che rispecchia la realtà Perché vi voglio bene Bisogna però parlare anche di questo Potete dire Quello che volete Il rigore c'era Caro Giuseppe Non puoi dire che il rigore non c'era È oggettivo Sì era rigore Era rigore Non possiamo mettere in discussione Qualsiasi cosa Soltanto perché una squadra Alla maglia a strisce bianco nere Non esiste Il rigore era sacrosanto Punto Se non avete visto E mi chiedete Io vi dico Con molta serenità Ok Allora il rigore c'era Perché il fallo di mano È netto Ronaldo tira di sinistro Bastos sta così col gomito La prende di gomito E calcio di rigore Ok Se invece una persona che ha visto Il calcio di rigore Mi scrive Eh vabbè ma rubano Eh vabbè ma campionato falsato Eh vabbè ma gioca a qualcos'altro Cioè guarda il cricket Vai a pesca Non guardare il calcio Che ti fa male Se poi parliamo Delle cose Giusto per voler protestare O buttare marcio Va bene ragazzi Non è un problema C'è tanta gente che lo fa Non questo canale però Onestamente Detto questo Il possesso della Lazio Che prova ad uscire In una fase della partita Molto complicata Ma c'è André Anderson Lo spunto del neo entrato In maglia 28 Va via Si mette in proprio Vuole anche la porta E non la trova di un nulla Palla gol per la Lazio Creata Costruita E conclusa Da André Anderson Che ha provato Uno squillo Un guizzo Palla fuori Ma Lazio a centimetri Dal 2 a 1 La classifica in questo momento Reciterebbe Juventus 80 punti Inter 72 Atalanta 71 Lazio 69 Roma 58 Quindi Questo Il quadro delle prime 5 Poi tra l'altro Attenzione alla situazione Europa League Perché la Roma è a 58 Sì Ma calcio di rigore Ma calcio di rigore Per la Lazio Ingenuità clamorosa Clamorosa Da parte di Bonucci Che prende il giallo Era solo E doveva tornare Da Scesni Ha atteso Chiaramente Inavvertitamente Che lo pressasse Immobile Si è fatto anticipare Poi ha messo il piede Per tornare da Scesni Ma ha preso l'uomo Anziché il pallone E attenzione Perché al di là Del come finirà Questa partita Se Immobile segna il rigore Siamo di nuovo 30 a 30 E quindi di nuovo pari Per la classifica Marcatori È pronto a fischiare Orsato Lo fa in questo istante La rincorsa di Immobile Destro All'angolino Non arriva Scesni È 2 a 1 30 gol in campionato Come Ronaldo La lotta Dei due attaccanti Continua In questo scontro diretto Ma soprattutto La partita È riaperta A 7 e mezzo Dalla novantesimo È 2 a 1 E attenzione al finale Pronti due Cammini a Lazio Sono due primavera Dentro Moro e Falbo 88 e 55 Dentro Moro e Falbo Che sono due fantasisti Uno è un difensore L'altro O meglio uno è un centrocampista L'altro è un fantasista Punizione in porta Con Scesni che vola Con Scesni che vola Sul destro Credo di Milinkovic Savic Siamo al novantacinquesimo Adesso Rimessa con Quadrado Si attende soltanto Il fischio finale di Orsato Che non arriva ancora Lotta Rabiotte Nere Il pallone Poi Parolo glielo strappa C'è ancora Juve in attacco Però con l'inserimento Di Rabiot La palla in qualche modo Passa Pavro Ad allontanare Lazio che vuole il contropiede Orsato non fischia ancora Ma la Juve ha il pallone E conta questo Perché la Lazio Non può più impensierire I bianconeri Palla ancora a cercare Cristiano Ronaldo Che lavora bene Difende su Bastos Gira Per Quadrado Che vuole mettersi in moto Anzi Matuidi Lo fa come al solito Poco coordinato Molto goffo Non tiene il pallone Ma in questo momento Conta zero Perché Stragoscia rinvia Siamo al novantaseiesimo Non fischia ancora Orsato Si sbracciano i bianconeri C'è rimessa per la Lazio Adesso guarda Elecronometro Orsato Ma il fischietto Non è ancora in bocca Incredibile Incredibile Sarri non ne può più Novantacinque e cinquantasei Erano cinque di recupero E il tempo non si è perso Fischia adesso Orsato Finisce qui Juventus Batte Lazio 2 a 1 Al termine Di una partita Tiratissima nel finale Che per un momento Dopo un primo tempo equilibrato Era sembrata A senso unico Perché la Juve Se ne ha segnati due A inizio ripresa Prima il calcio di rigore Di Ronaldo Poi il clamoroso errore Da parte di Luis Felipe Che ha regato il pallone a Di Bala Assiste per Ronaldo E 2 a 0 Praticamente il nulla Fino a un quarto d'ora Dalla fine Quando entra André Anderson Spaventa la Juve E da lì è un'altra partita L'ingegnerà di Bonucci Il calcio di rigore Segnato da Immobile Il 2 a 1 Che però Così rimane Perché poi prima Scesni è bravo Sulla punizione di Milinkovic E poi è brava la Juve Stavolta sì Ad amministrare Un difficile finale di partita Quello che non era successo Contro Milan e Sassuolo Ha vinto la Juve E forse stasera Lo ha fatto Con Importanza Imponente Perché stasera La Juve Ha più 8 sull'Inter Che è seconda in classifica A 4 giornate Dalla fine A 4 giornate Iscriviti Eritos Grazie Grazie Geologie Grazie